Il registro delle imprese gestito dalla Camera di Commercio di Arezzo Siena ha presentato questa mattina anche alle varie forze dell'ordine. Perché e in che modo possono utilizzarla? Il registro delle imprese è una delle competenze più importanti delle Camere di Commercio. Sono 6 milioni di imprese a livello nazionale che si iscrivono al registro delle imprese che ha una efficacia sia costitutiva sia di pubblicità. È un fatto, lo dico spesso, di democrazia economica straordinaria nel senso che chiunque, qualunque cittadino, qualunque imprenditore pigiando un bottone del proprio computer è in grado di sapere, perché il registro è informatizzato in tutti i dettagli, è in grado di sapere tutto riguardo ad una potenziale controparte imprenditoriale. Quindi l'assetto proprietario, lo statuto, il bilancio, chi sono i soci, il registro delle imprese dà informazioni completissime riguardo a tutto quello che è il sistema delle imprese. È veramente un'anagafe totale e completa delle 6 milioni di imprese nazionali. Ha anche delle potenzialità importanti ai fini investigativi. Noi stamani facciamo un incontro con le autorità di pubblica sicurezza, dai carabinieri alla Guardia di Finanza, alla Procura, al Tribunale, alla Prefettura, per presentare le potenzialità di questo strumento, come dicevo prima, informatizzato. In che modo possono aiutare le indagini i vostri dati? Attraverso un'analisi più evoluta dei dati che vengono messi in relazione tra di loro e quindi danno una conoscenza dell'andamento dei fenomeni economici più attenta e più consapevole.